Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio andare a vedere un'analisi importante tra Bitcoin e l'S&P 500 in cui ci sono delle similitudini, soprattutto il chart del 2023 alla rottura per quanto riguarda l'S&P e quello che sta succedendo adesso su Bitcoin. Se non lo sapete Bitcoin e l'S&P sono molto correlati alcune volte e la correlazione arriva addirittura sopra i 0.64 quindi su questa scala come vedete 1 è alta correlazione praticamente si mimano e ovviamente negativo vuol dire che quasi fanno l'opposto ovviamente meno 1 vuol dire che fanno esattamente l'opposto che se uno va su l'altro va giù esattamente quindi sono scorrelati in maniera molto forte. Per quanto riguarda Bitcoin ovviamente la correlazione arriva anche più di 0.6 questo non è proprio esatto ma certe volte arriva anche a 0.9 0.8 5 e così via dipende dai grafici che guardate. Il succo però è che la correlazione è forte tra questi due asset. Una delle cose che possiamo fare è mettere anche il grafico di Bitcoin sopra l'S&P e come vedete ultimamente l'S&P e Bitcoin si sono ripresi più o meno negli stessi periodi. In questo caso per esempio c'è stata una divergenza e qua per esempio la correlazione era molto più bassa perché come vediamo mentre l'S&P sale, ok qua a destra l'S&P, Bitcoin lateralizzava. Ok questo è stato uno dei momenti in cui noi abbiamo comprato di più Bitcoin perché io ovviamente uso queste scorrelazioni per comprare quando vedo che Bitcoin va da una parte e l'S&P invece performa benissimo dall'altra. Solitamente indice che Bitcoin a un certo punto arriverà a correlarsi nuovamente e seguirà i mercati. E quindi come vediamo in questo momento Bitcoin se guardiamo l'all time high quindi valutiamo solo la parte dell'all time high non ha mai superato il suo previous all time high completamente. Quindi in caso di performance, quindi se parliamo di performance non numerica perché ovviamente Bitcoin ha fatto molto più dell'S&P dal suo low ma a livello di generale cioè per esempio chi ha comprato nel high dell'S&P ovviamente in questo momento è in profitto, chi ha comprato nel massimo invece nel high di Bitcoin non è ancora in profitto così tanto. Quindi quello di cui parliamo è performance in generale, quindi senza parlare di percentuali anche perché sono due asset che hanno dei beta un po' diversi. Quindi in questo caso se andiamo a vedere quello che Bitcoin sta cercando di fare nella sua zona quindi superare l'ultimo high, se noi andiamo a mimare questo movimento di quando l'S&P ha superato l'ultimo high, come vediamo prima di arrivare e superare questo massimo ha fatto una cup and handle oppure quello che chiamano una tazza col manico e vediamo qua alcuni esempi di questa tazza col manico e come vedete alcuni esempi sono questi ok quindi non è sempre uguale identica però l'S&P per esempio abbiamo avuto una cosa del genere o molto simile questa qui quella dell'S&P praticamente uguale identica però come vedete questa è la fisionomia più o meno della cup and handle e se andiamo a vedere sul grafico in questo caso sembra che entrambi abbiano questo pattern quindi si stiano mimando in questo preciso caso. Ovviamente Bitcoin ha molto più di questo pattern perché sui brevi time frame abbiamo anche una head and shoulder che sta giocando quindi se andiamo su più bassi time frame in questo caso Bitcoin ha questa head and shoulder come vedete qui questa è una head and shoulder che sta giocando in questo caso. Quindi Bitcoin in verità prima della rottura sta mostrando segni molto molto forti ovviamente ancora non ha rotto e quindi finché non c'è una rottura netta non possiamo dare il KO completo però guardando tutto quello che vediamo cioè questa è una flag che solitamente si crea prima della rottura quindi nel caso della cup and handle. Cosa significa questo pattern? Questo pattern vuol dire che praticamente c'è questa rotazione questa rotazione solitamente avviene quando si trova un fondo quindi quando il mercato comincia dal suo pattern bearish a diventare più bullish quindi adesso andiamo un attimo da breviare qua vi faccio un esempio di cosa vuol dire questo pattern ok? perché questo pattern è composto da diverse fasi del mercato quindi diverse fasi del mercato fanno sì che questo pattern accada solitamente quando il mercato è bearish quello che noi vediamo è una conseguenza di massimi più bassi e minimi più bassi in questo caso qui come vedete qui ok? quindi il mercato scende così ovviamente adesso l'ho disegnato veramente male però questo solitamente è il succo ok? quindi fa un massimo più basso del precedente e un minimo più basso del precedente in questo caso e questo forma quello che è un bearish pattern ok? quindi anzi facciamolo meglio ecco qua questo è molto più bello quindi cosa succede? alla fine di un bearish pattern si comincia a creare il fondo del mercato il fondo del mercato come si crea? il fondo del mercato praticamente si crea e qua noi abbiamo preso parecchi trade su questo quindi attenzione solitamente il fondo di un pattern si crea cominciando in questa zona a trovare una resistenza e quindi praticamente a mostrare segni di forza in una zona precisa ok? su alti time frame assegnare per esempio un double bottom un triple bottom oppure per esempio fare una zona di Wyckoff quindi fare una zona di accumulo poi fare una rottura e quindi si comincia a creare questa specie di bottom ok? il bottom è conseguito poi quando si trova un fondo vero e proprio dalla rottura della struttura quindi esce da questa struttura facendo una rotazione quindi il prezzo ruota ed esce dalla struttura bearish in cui è rimasto magari per anni o mesi o giorni o settimane dipende dal downtrend e da qui comincia a darti i primi i primi swing più bullish quindi comincia a fare dei massimi più alti e dei minimi più alti in questa zona ok? quindi cosa succede in questo caso? abbiamo una rotazione del prezzo verso l'alto a un certo punto mentre il mercato va su fa questi swing che vedete qui di ritracciamento questi ritracciamenti solitamente formano dei pattern quindi formano delle flag formano head and shoulder comunque dei pattern che poi solitamente le flag che sono le bandiere questi sono pattern di continuazione ci sono le bandiere ci sono le falling wedge ci sono le rising wedge in caso è più bearish e poi ci sono i coni rovesciati i coni aperti come volete chiamarli voi quindi in questo caso questo pattern che si chiama il pattern della tazza e manico o la cap and handle non è altro che una volta trovato il fondo quindi c'è una rotazione dell'asset e arriva a un certo punto e ti dà questi pattern di continuazione in effetti qua bitcoin ovviamente è fatto anche qui pattern di continuazione perché se andiamo a guardare questa zona per esempio questo potrebbe essere interpretato anche come una flag in quest'area quindi abbiamo avuto bitcoin che è andato in questa zona e poi ha rotto a rialzo ok qua la stessa cosa abbiamo avuto una zona di continuazione in cui ha fatto una white off accumulation ha rotto e qua di nuovo sta cercando di trovare un pattern di continuazione per continuare a rialzo quindi bitcoin in questo momento si trova nella fase di swing ok quindi fa degli swing più alti come vedete qui ok quindi questo è uno swing ok e qua è la zona di swing e quindi se noi dovessimo tornare al pattern di prima andiamo a vedere che si stanno mimando molto bene perché l'ultimo high di questo mercato l'ha superato proprio con una mega cap and handle quindi con una mega tazza e manico e poi ovviamente da qui ha continuato infatti se andiamo a vedere anche qui qua abbiamo degli swing molto belli ok guardate qui che belli ok sul come di queste abbiamo anche fatto 2x3 ok quindi come vedete questa è la sequenza del mercato bitcoin ovviamente è un po' più parabolico quindi in verità ha meno ritracciamenti ha molti più parabole infatti in questo caso li più importanti li abbiamo visti ai livelli 30 e al livello dei 70 in questo momento ok qua c'è rimasto veramente poco anche qui nel livello 22 23 e nel livello dei 43 i livelli più importanti ovviamente sono dove ci sono i ritracciamenti quelli un po' più seri e la lateralizzazione comunque ragazzi vi ricordo di lasciare un like o un mi piace a questo video commentate sotto cosa pensate di questa analisi se può essere veramente un'analisi che ha senso oppure no fatemi sapere e poi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao